Nuovo screening oggi e domani all'Aquila per la popolazione scolastica dedicato agli studenti delle scuole superiori che tornano in classe dopo le vacanze di Natale e dopo le lezioni di didattica a distanza. Le date sono state scelte anche considerando i vari calendari adottati dai vari istituti per lo svolgimento della DAD e delle attività in presenza. Questa volta sono tre le postazioni attive dalle 9.30 alle 17.30 e sono a Monticchio nel Drive-Thru, nel Musperi via Ficare e nella palestra dell'Iceo Bafile a Colle Sapone. Questi screening sono di un'importanza fondamentale per cercare di tenere di più sotto controllo questa tremenda pandemia che ci segue in questo momento. È fondamentale perché riusciamo a screenare molta molta gente ed evidenziare fortunatamente quei pochi casi ancora positivi, trattamente questi sono casi che vengono evidenziati male che va su portatori sani. E questo è fondamentale perché dà il via poi al tracciamento dei contatti diretti del portatore sano e quindi del positivo e di lì poi parte tutta una indagine epidemiologica che sicuramente porta all'individuazione di se ci sono degli altri positivi. È un modo fondamentale questo per... Io infatti proporrei, riterrei utile, effettuare ancora questi screening anche durante il periodo di ripresa delle scuole. In caso di positività tutta la gestione passa all'ALS, al servizio di igiene, che provvede a fare un'indagine epidemiologica, onde come ho già detto trovare i contatti diretti e sottoporli ovviamente a tampone, molecolare. L'iniziativa è stata concordata nel corso di una serie di riunioni che si sono svolte nei giorni scorsi tra rappresentanti dell'unità di crisi comunale, protezione civile regionale, ASL, ufficio scolastico provinciale, dirigenti scolastici e ordine dei medici. La campagna come sempre prevede test antigenici rapidi, adesso base volontaria, ma potranno partecipare studenti, personale docente e non tutti coloro che non si sono sottoposti al test nella scorsa occasione.